Ciao a tutti, nuovo video unboxing e ragazzi io sto rosicando tantissimo perché in realtà avevo filmato un video unboxing qualche tempo fa ma l'ho erroneamente cancellato insieme ad un video full face di Essence e veramente mi dispiace tantissimo quindi passiamo oltre, io vi ricordo di seguirmi sempre anche su Instagram perché lì non tutti i giorni però ogni tanto quando ho un po' di pacchi accumulati ve li mostro velocemente sulle stories, quindi mi trovate come MicheliniaYT e se volete c'è il link diretto nel box informazioni, comunque cominciamo subito ragazzi parto soltanto dal farvi vedere le cuvette Anastasia Beverly Hills, cioè parlerò con la voce Rauka tutto il tempo sappiate perché vengo già dal filming di altri due video però sono stati abbastanza lunghi comunque apriamo la primissima cuvette e innamoriamocene insieme, tadaaa lacrimuccia collettiva adesso parte in 3, 2, 1 abbiamo i matte lipstick ragazzi questo è il mio mondo perché sono tutti colori nude cioè sperando metta a fuoco i rossetti e non il mio viso questi sono i colori, guardate che belli non vedo l'ora di provarli anche perché mi sto trovando veramente benissimo con la paletta che vi avevo mostrato nell'altro video con la quale ho realizzato anche un full face first impression devo ancora provare i fondotinta, vi dico la verità però li proverò a breve perché nell'ultimo periodo ho avuto modo di provare veramente tantissimi prodotti molti dei quali mi sono piaciuti e poi io quando provo dei prodotti che mi piacciono tendo ad utilizzare sempre quelli ad esempio la palette da quando l'ho utilizzata per la primissima volta la palette che io uso quotidianamente è quella che porto sempre con me la soft glam è una palette veramente completa di qualità veramente fantastica veramente fantastica arriviamo poi a questa, vedete già la confezione com'è tutta così glitter e aprendola tadaaa dream glow kit c'è anche un pennello per l'applicazione abbiamo capito glow kit abbiamo capito che si tratta di illuminanti il pennello è l'A23 se vi può interessare e arriviamo alla palettina packaging cartoncino, compatto, di qualità, lo sento bello resistente cioè guardate questi illuminanti cosa possono essere sono meravigliosi, meravigliosi proprio vediamo questo dorato stiamo scherzando stiamo scherzando no io adesso lo voglio applicare proviamo con il loro pennello sicuramente preso con le dita secondo me è più potente però vediamo così no vabbè io spero che dalla telecamera si riesca a vedere perché è qualcosa di pazzesco proprio è meraviglioso e poi hanno dei nomi carinissimi Wish, Unicorn, Magic, Sunshine che carino grazie alla Stasia Beverly Hills arriviamo poi a questa bellissima borsa da mare che è del brand By Terry allora non so se avete notato ma negli ultimi video unboxing sto cercando di inserirvi dei brand che magari non sono così comuni in Italia o perché non sono ancora venduti qui o perché appunto non sono italiani semplicemente perché penso sia carino insomma mostrarvi anche cose nuove insomma comunque questo brand io non lo conoscevo mi hanno contattata per inviarmi appunto i prodotti e mi hanno avviato il tutto all'interno di questa borsa che sfrutterò tantissimo questa è stata per il mare quindi li ringrazio allora partiamo da questo che è un profumo ho nella mente di prendere una vetrinetta ma devo ancora vedere misure dove metterla e tutto quanto per i profumi voglio una vetrinetta solo con i profumi perché io sono ossessionata con le confezioni dei profumi mi piacciono tantissimo e li vorrei esporre il packaging è bellissimo oh mio te è buonissimo è quella classica fragranza che io non so spiegare perché non è fruttata non è floreale non so spiegarvi questa fragranza onestamente però è buonissima e mi piace il fatto che all'interno della confezione ci sia anche lo spray da viaggio questa è una cosa che a me piace sempre tantissimo e questo si chiama Soleil Pequant spero di averlo pronunciato bene ragazzi aiuto qui abbiamo un mascara Lush Expert Twist Brush ah da una parte abbiamo la lunghezza dall'altra il volume oh carino ah ok ha il tappino con il twist vedete si gira qui si allunga e si accorcia in modo da poter dare lunghezza oppure volume e questo quando si accorcia però non diventa soltanto più corto ma lo scovolino diventa delica per intenderci fatemi sapere se vi può interessare anche un video first impression con questi prodotti che vi sto per mostrare visto che appunto non sono così conosciuti qui in Italia poi linea alle rose abbiamo un balsamo labbra che però già vedo che è nel pottino immagino i balsami labbra in pot non li amo troppo perché sono scomodi per me da prelevare perché io ho le unghie in genere preferisco il formato lipstick per intenderci però vediamo ovviamente vi deve piacere la fragranza alle rose perché profuma di rose vi devo dire però da quello che sto vedendo adesso hanno dei packaging molto importanti sempre della linea alle rose abbiamo anche una crema a mani che andrò ad utilizzare immediatamente perché io devo testare i prodotti a rosa cioè lascia la pelle immediatamente ipervellutata poi abbiamo una linea skin care sempre alle rose city mask quindi una maschera detox la definiscono però effervescente quindi non so se è una maschera che fa le bollicine o perché è ossigenante non lo so la devo provare mi incuriosisce veramente molto poi si è roviso sempre effetto detox e sempre effetto detox questo è un acqua primer acqua primer è interessante ragazzi ah è così pensavo avesse lo spray onestamente acqua primer all'interno della bag c'era anche questa pochettina sempre con la stessa trama apriamo e all'interno c'è una palette dovrebbero essere di blush twist on lip ah ok è il rossetto quello che serve per fare l'effetto degradé vedete stick che ha già i due colori e peraltro li ha sui toni del marrone e del nude quindi secondo me questo è uno di quelli che potrebbe fare al caso mio sono veramente curiosa di provarlo vediamo invece la palettina guardate è sempre la stessa trama è veramente stra bella esattamente abbiamo i blush c'è anche l'illuminante questa cipria mi interessa perché ultimamente ho preso a fare baking qui nella zona del contornocchi voi direte con tutte le tue rughette fai baking sì perché ho notato che con i correttori giusti ovviamente e con la cipria giusta e per cipria giusta in questo periodo sto utilizzando assolutamente lei continuo ad essere la mia preferita in assoluto la prism visage libre di Givenchy veramente top ed è molto 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 sottile vedo che questa zona migliora veramente tantissimo rispetto a quando l'applico semplicemente con il pennello quindi voglio provare questa perché essendo con l'acido ialluronico all'interno dovrebbe avere un effetto super lisciante infatti la vedo che è proprio iper 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 sottile ragazzi voglio assolutamente provarla dico io sì al video first impression con questi prodotti perché mi sto fomentando tantissimo oh ma che bello questo dovrebbe essere un blush viene con oddio ragazzi non mi ricordo mai come si chiamano questi sacchettini in velluto che bello questo blush vi ho detto hanno dei packaging fighissimi certo non è esattamente il blush da portare in valigia perché se dovete viaggiare tipo in aereo questo vi occupa tutto quanto il peso del bagaglio perché è pesantissimo è tutto in acciaio credo comunque all'interno c'è il pennellino lo specchietto e il blush ragazzi pesa non sto scherzando se questo ti cade su un piede ti fa male ti sparca una mattonella qui abbiamo glow expert stick duo c'è un pennellino l'illuminante cremoso in stick sia rosato sia vedete dorato allora di questi hybrid lipstick ne abbiamo due guardate che carini allora sono dei rossetti vedete stick che però loro li chiamano hybrid perché escono fuori cliccando qui dietro cioè vedete esce fuori la mina cliccando che carina questa cosa è super particolare e ho un rosa tipo rosa quasi malva no più un rossiccio mattone dai che vuole malva dove l'ho visto il malva e un rosso il rosso peraltro è molto bello ragazzi l'ho chiamato è un balsamo labbra in stick però è un pochino colorato ha anche il fattore di protezione i packaging sono carinissimi qui sul pack all'interno c'è scritto by terry questo forse è un pochino profumo il balsamo labbra non vorrei sbagliarmi ma secondo me è un pochino profumo vediamo un po' com'è si da un oh che bel colorino da un vedete un po' un salmone qui invece abbiamo un velvet lipstick liquido oh nude wow un nude un pochino scuro però è stupendo correttore ragazzi fatto nello stesso modo dei rossetti e sembra anche molto 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 buono che stavo andando a richiuderlo così ma questo non si richiude chissà com'è con sopra quella cipria iper sottile ragazzi io propongo un video first impression con questi prodotti i fondotinta stick di Anastasia Beverly Hills che non ho ancora utilizzato c'è un po' un mix fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate poi abbiamo un matitone carino anche molto 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 carino veramente molto interessanti quindi ringrazio anche By Terry per avermi inviato tutti questi prodotti come sempre ragazzi ne faremo buon uso e arriviamo all'ultimo pacco per oggi arriviamo quindi a Pupa Milano ragazzi ho aperto questo pacco c'erano delle cose troppo interessanti all'interno quindi ho detto no devo assolutamente farlo vedere in un video unboxing allora comincio con di ringraziarli perché mi hanno inviato una cosa veramente super utile che è questo che serve per mettere il telefono all'interno per quando ci si allena e poi va al braccio questo è veramente comodissimo e peraltro mi piacciono i colori su rosa quindi grazie continuiamo sempre con il tema sport gel anticellulite effetto workout ok questo ci interessa cosa dice vediamo un po' un trattamento intensivo che agisce come una ginnastica cosmetica per la pelle per contrastare ritenzione idrica e cellulite radicata a sodare e tunificare meno 3 cm in 4 settimane 30 giorni di effetto prolungato ah quindi dopo 30 giorni senza utilizzare il prodotto il dermatologo ha confermato che i risultati ottenuti si mantengono nel valore medio ok questo diventerà il mio nuovo migliore amico esce un profumo di menta da quella confezione poi abbiamo sport addicted sun care quindi protezione solare spray invisibile protegge e attenua il senso di calore questo è resistente al sudore all'acqua è applicabile su pelle bagnata e antisabbia e ho una protezione 30 e una protezione 50 più grazie mille puffa questi sono sempre utilissimi e poi ragazzi queste cioè queste erano le novità che avevo iniziato a vedere già online e non vedevo l'ora di avere anche io perché mi incuriosiscono veramente tantissimo sono delle maschere in formato vedete a parte sono piccine dovrebbero essere due applicazioni in teoria si dice due applicazioni ma secondo me con questa quantità si possono fare anche tre applicazioni perché comunque sono abbastanza 30 ml di prodotto secondo me si possono fare più di due applicazioni ma vedremo allora ce ne sono di diversi tipi abbiamo la maschera peel off speciale pori maschera peel off illuminante maschera purificante levigante purificante e opacizzante quella verde esfoliante rivitalizzante la gialla ed esfoliante energizzante quella arancione sapete che Pupa ha già le maschere in tessuto che io utilizza a prezzo e adesso sono usciti con delle nuove versioni abbiamo la maschera nera purificante purifica e riequilibra poi la maschera mani nutriente quindi per le mani poi abbiamo la maschera per le borse e le occhiaie i patch per il naso questi sono fighissimi li stavo leggendo perché mi incurisitivano tantissimo servono per eliminare appunto i punti neri dal naso però in tre step c'è uno step che serve per aprire i pori della pelle il secondo step proprio per andarli poi a rimuovere il terzo step per andare a richiudere i pori quindi veramente geniale maschera piedi riparatrice maschera labbra idratante e maschera anti-age vediamo un po' contorno occhi e rughe nasolabiali questo me lo devo prendere una vagonata io praticamente non è estate senza la linea extreme bronze di pupa davvero ormai da anni quando io vedo arrivare prodotti della linea extreme bronze dico ok è estate extreme bronze radiant che è la terra bronzante me l'hanno mandato ovviamente di diverse colorazioni questo è il packaging c'è lo specchietto e c'è il prodotto e c'è la versione radiant ma anche la versione matte perché questo finish radioso naturale effetto levigante questo invece la matte finish opaco naturale lunga tenuta in questo modo sopra c'è scritto matte mentre lì c'era scritto radiant poi abbiamo golden oil è un olio secco scintillante per viso corpo e capelli carinissimo questo in estate con un filo di abbronzatura non vedo l'ora ragazzi non vedo l'ora e poi mi hanno inviato due di queste palette per il contouring e ovviamente immagino in tonalità diverse dove sta scritto questa è la 002 e questa è la 003 vediamo la 002 sono carinissime queste palette a parte che apprezzo molto il packaging perché è sottile compatto non sono in cartoncino però sono in plastica qui si preme e si apre c'è uno specchio bello grande e poi ci sono i vari prodotti vedete c'è l'illuminante c'è una terra più chiara una più scura e il blush e ringrazio anche Pupa per tutti questi prodotti fatemi sapere nei commenti quali sono stati i pezzi che mi hanno incuriositi di più io vi ringrazio come sempre per aver seguito anche questo video non vi dimenticate di lasciare un bel like di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto di attivare la campanella di lasciare un commento se vi va quante cose mi sto chiedendo di fare comunque con questo è davvero tutto vi mando un bacio un abbraccio ci vediamo alla prossima ciao